Ciao Emanuela, ti auguro una bellissima giornata. Oggi è il compleanno di mia figlia Alessandra e le ho regalato una delle tue bellissime borse. Baccia a te, a Eve, a Ruben e a tutto lo staff. E poi mi scrive, oggi è il giorno mondiale delle donne, manda questi cuoricini a tutte le donne che sei felice di aver conosciuto. E mi è arrivato. Bello che ci sei. Grazie. Grazie Angela. Dalla Sardegna e tanti auguri a tua figlia. Buon compleanno. Tanti auguri. Vediamo se c'è il nome. No. Alessandra. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri Alessandra. Tanti auguri a te. Brava. Auguri Alessandra. Buon compleanno. Bello. Poi amiche, chi abbiamo? Stezzate arrivando tutte. Poi la Franci che mi manda un bacio che ancora non ho chiamato. Perdonami Franci. Non mi uccide le Franci. Lo so che mi vuoi bene. Lo so che sai che sono così. Però ho finito. Oggi ho apprezzato le ultime cose. Quindi sono tutta tua. Alle 6 ti faccio un chiamo. No. Alle 6 non so se puoi. Ti faccio un chiamo. Se no domani mattina sono in festa. Ci sentiamo. Poi Gianluca. Sono con te sempre. 140 for you. Sarà su YouTube. 140 spettatori live streaming. Un bacino. No. Poi Margherita. Grazie Manu. Bravi amiche. Allora. Poi casomai questi li rivediamo. Ok? Ok? Volevo farvi vedere adesso un altro bracciale eccezionale grande che sono gli smalti grandi con la rosa. Questi qui. Allora. Ma non è andato niente di questi bracciali. Scusate. Ciro. No. Perché amiche ha 59 euro i bracciali. Li rivediamo dopo. Però vi dico. Sono da confermare al volo. Poi. Allora. Questi qui sono non belli di più. Guardate. Allora. Nero e rosa. Viola e nude. Viola e bianco. E celeste e nude. Amiche eccezionali. Costavano 99 euro. Sono super super scontati. a 79 euro. Correte. 79. Velocissime. Velocissime. Veloci amiche. Bellissime. Sono larghissimo il bracciale. È un bracciale amiche placato. Con una placatura amiche importante. Tutto smaltato artigianalmente alla schiava. Quindi non ha problemi di misura e lo regolate. Scontato a 79. Non ha 180 euro. Ha 79 euro amiche. Dovete correre. Sono colori eccezionali. Mi vai poi dentro Giulie. Me li fai vedere bene in primo piano. Sono bellissimi. 79 euro. Eccezionali. Celeste e nude. Viola e nude. Nero e rosa. Viola e bianco. Correte a confermare. Quello con le stelle. Bordeaux. Allora, quello con le stelle. Bordeaux è questo qui. A 59. Bellissimo. Un amore. Bellissimo. Allora, tanto che voi ve li guardate. Diciamo che male non stavo. È seduta Giulie, ti dico la verità. Allora, amichette mie. Vi faccio vedere le ultimissime promozioni rimaste. Oggi sono papata viva. guardate. Allora. Allora, queste due sono uniche. Anzi no, sono tre pezzi. Sono il modello Louis Vuitton, diciamo, che avevo messo in liquidazione. Ne sono rimasti solo tre pezzi. Eccoli qui. Uno, due e tre. Un blu, un giallo e un verde salvia. Con la doppia tracol. Scontati, amiche. Adesso Giuliano ve li fa vedere. A 39 euro. Ciro! Sei sicuro che è acceso il riscaldamento qui? Per me no, Ciro, non è acceso. 39. Eccezionale, amiche. 39 euro. Non è acceso. No. 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 39, tre pezzi. Ah, c'era il gelo. Ah, ha detto che era acceso. Però ora vorrei anche riscaldare il riscaldamento. A 30, lo voglio. Siamo adassato, venivano in un po' di purri, ci troviamo, ora assate i riscaldamenti. Veloce, amiche. 39 euro. Eccezionale opportunità. Modello Louis Vuitton. Ho bisogno di voi. Allora, devo far vedere una borsa ad una signora. Eccola qui, che mi ha dato Armando. Allora, Giulia. Eccomi qui. Borsa per la signora che ha fatto richiesta. Parliamo, amiche, di modello Louis Vuitton con lucchetta cuore. A 99 euro per l'amica che ha fatto richiesta. Poi, amiche, rivediamo tutti i giubbottoni. Bellissima. doppio scompartimento, doppia cerniere. 99 euro, eccezionale opportunità, amiche. Corretta a confermare. È bellissima per la signora. Penso che ti abbia fatto richiesta a te la signora. No, all'Alessia. All'Alessia. La signora che ha fatto richiesta alla Ale. Ah, ha detto che era acceso. Come umano, era sprinto, c'era il ghiaccio. Ne sta lattiti. Unica, eh? In verde salvia. Doppio scomparto, automatico laterale. Modello Louis Vuitton. Esagerata, amiche. Stupenda. Mi sa che andate, ritiro. Poi, unica. Unica. Grazie. Grazie. Grazie.